Ciao a tutti, è come il New Weekend, eccoci qui con il mio podcast, Tip of the Week, programma di musica launch e tip con pezzi selezionati e viziati da me. Buon ascolto con la seconda parte del Tip of the Week. Buon ascolto con il nostro canale. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.